Binance sta scammando, sta chiudendo, che problemi sta avendo riguardo i circuiti bancari, Visa, Mastercard, ragazzi facciamo questo video, breve video d'aggiornamento perché diciamo la parola scam ormai è implementata in qualsiasi contesto, quindi mi avete fatto molte domande in privato, mi avete detto che problemi sta avendo Binance, se comunque sia diciamo è rischio insolvenza, non è rischio insolvenza, possiamo dire che sta avendo un pochettino di problemini anche riguardo al CEO statunitense, ma in questo video andremo a vedere un pochettino quali sono le notizie, cosa sta succedendo a Binance, se c'è rischio chiusura, quindi c'è il rischio che i risparmiatori vadano a perdere quantità di denaro assurde perché come ben sappiamo Binance diciamo quel miglior se non il primo exchange mondiale a livello mondiale, ma sta avendo un pochettino di problemini che però non è il caso di gridare a scam, diciamo a chiusura, battute d'arresto e quant'altro, magari siamo scottati dal caso AFTX che ci ha segnato sicuramente, quindi molti di voi hanno paura, andiamo a vedere in questo video. Prima di iniziare amici vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale ragazzi e ho più del 70% delle persone che vedono i miei video e non sono iscritti al canale, per favore iscrivetevi al canale così riuscirete anche voi a restare aggiornati riguardo il mondo online. Come sappiamo Binance chiuderà diciamo la possibilità di effettuare dei bonifici all'interno della piattaforma, bonifici SEPA e andare a diciamo a comprare, fare delle operazioni in euro e quant'altro, quindi sostanzialmente questo è quello che sappiamo. Inoltre ci sono anche dei piccoli problemi riguardo ai circuiti Visa, Mastercard è quello che vi dicevo all'inizio del video che il CEO statunitense si vuole dimettere ma alcuni dicono che si sta prendendo una pausa di riflessione, altri invece dicono. Queste state giornalistiche confermano che comunque sia il CEO si vuole dimettere eccetera ma bisogna sgridare già alla fine per questo exchange? Naturalmente no ragazzi ci sono dei cambiamenti, Binance sta cercando altri partner riguardo la zona euro e quant'altro. Quindi andiamo a vedere subito all'interno, quindi ragazzi se noi cerchiamo anche su Google andiamo nelle ultime notizie possiamo ben vedere subito problemi con la SEC riguardo i conti e quant'altro. E abbiamo anche notizie Binance si dimette il CEO, USA Brian Schroeder, l'exchange crypto annuncia oltre 100 licenziamenti, ok? Questo è un articolo di Startup Italia, dopo lo andremo a vedere Binance USA si dimette il CEO Brian, ok? Questo è un articolo di Crypto Gateway e quant'altro. Quindi abbiamo articoli di tre settimane fa tra cui quello di Cryptovaluta.it, Binance, AddioCard, Visa e Mastercard, stop anche in Europa. Inoltre andando qui sotto abbiamo anche l'articolo su un'altra testata giornalistica crypto, Cryptovaluta, Mastercard e Visa chiudono le porte a Binance, ok? Ma effettivamente cosa sta succedendo? Questo su Milano finanza un articolo di quattro settimane fa che non c'entra nulla, ok? Binance in Italia ha accumulato cryptovaluta per 385 milioni di euro in pochi mesi, ok? E qui e quant'altro. Queste sono le ultime notizie riguardo che cosa sta accadendo a Binance. Andiamo a vedere subito l'articolo del Crypto Gateway riguardo le dimissioni del CEO. E qui che cosa ci dice? Che sostanzialmente il CEO era entrato a far parte di Binance nel settembre 2021 e l'ex dirigente di Uber ne va ora in un momento critico per il ramo americano dell'exchange. E c'è la difficoltà di Binance, l'azienda aveva già tagliato questa estate parte del personale, aveva ridimensionato le proprie operazioni proprio a seguito della causa della Contro Binance. La finalità dell'Università si è quindi vista ridursi gli sparsi di business con un forte riduzione dei clienti, non più in grado di utilizzare i dollari strutturidensi per acquistare criptovalute sulla piattaforma. Quindi sembra proprio che ci sia, diciamo, queste dimissioni da parte del CEO. E andiamo a vedere invece riguardo il suolo europeo che cosa sta succedendo riguardo anche i bonifici SEPA, zona euro e quant'altro. Quindi problemi per Binance con Visa e Mastercard che salutano l'exchange. Ora vi starete domandando, ma posso utilizzare ancora la carta Binance? Cioè posso fare dei prelievi con la carta Binance? Posso comprare con la carta Binance? Certo, ok, naturalmente non è, chiudono i rapporti e finisce tutto. Ci sono dei tempi, delle tempistiche, se questo veramente avverrà, naturalmente non c'è da gridare o aiuto il fallimento di Binance o come è successo per FTX e quant'altro. Naturalmente siamo rimasti scottati tutti da quello che sta succedendo, ma sappiamo benissimo che gli exchange, anche i migliori al mondo, possono subire, possono chiudere, possono fallire, possono subire dei cambiamenti. Ma non è nel caso di Binance ad ora, ok? Naturalmente sta semplicemente cambiando partner riguardo zona euro. E leggiamo questo articolo. Secondo quanto è riportato da Bloomberg, Visa e Mastercard, Visa e Mastercard Bloomberg, è un giornale famosissimo, avrebbero interrotto ogni tipo di collaborazione con Binance, il primo exchange al mondo per volume e diffusione, ok? Non è chiaro per il momento se si tratta di un'interruzione momentanea oppure dell'interruzione definitiva ai rapporti tra le società, ok? E qui riporta anche perché vi ho detto dei problemi negli Stati Uniti, con l'exchange che continua ad avere problemi legali importanti negli Stati Uniti, problemi che sono con ogni probabilità anche la ragione dell'interruzione dei rapporti di cui sopra. Quindi effettivamente non sappiamo se le dimissioni del CEO possono essere collegate, diciamo, a questi problemini che sta avendo Binance in America. Se così fosse, ragazzi, è un po' problematica la questione, ok? Ci sono cose che ancora non sappiamo. Poi, cosa ne sarà il servizio di carte? Qui lo spiega, siamo su CryptoValuta.it. Secondo quanto il riportato a Bloomberg, Visa avrebbe già interrotto l'emissione di nuove carte per conto di Binance da luglio scorso. L'emissione di nuove carte, quindi quelle già che ci sono funzionano, quindi non è che chiudono i rapporti così. Diciamo, l'emissione di nuove carte sembrerebbe, ok? Avrebbe già interrotto, qui dice, avrebbe già interrotto da luglio scorso. Per Mastercard, invece, si trova a aspettare settembre. Entrambe le società non hanno comunicato le motivazioni dietro l'interruzione del servizio. Quindi non ci sono state comunicazioni ad oggi. Poi, andiamo sotto. Problemi ricorrenti con i canali di pagamenti old school. Andiamo. Binance ha una storia piuttosto lunga con i problemi di pagamento tradizionali. Paysafe interromperà presto i servizi per i clienti dell'exchange. In passato si sono avuti problemi relativi ai canali SEPA. Recentemente, Binance ha perso accesso anche ai canali Fiat negli Stati Uniti e ha problemi simili in Australia. Qui poi dice, Binance a rischio, la notizia non aggiunge nulla ai rumors che riguardano l'eventuale insolvenza di Binance. Rumors che continuano a circolare nonostante la condizione prima che avevamo indicato si sia già verificata. Quindi sono solo rumors, ragazzi. Ok? Detto ciò, qui dice anche il prezzo di BNB è sceso io ora. Non sono andato più a seguire il prezzo del BNB. Ma se noi andiamo a ricercare, per esempio, facciamo un esempio, Binance Stop Bonifici SEPA. Abbiamo anche articoli, ragazzi, questi problemi sono già emersi. Per esempio, questo è un articolo di punto informatico del 7 luglio. Cioè, ci sono stati anche in passato, diciamo, ecco qui, ok? A sospeso del 7 luglio del 2021, Binance ha sospeso temporaneamente i pagamenti riguardo l'Europa e Bonifici SEPA dell'Europa. Ok? Quindi abbiamo anche un articolo di Young Platform molto carino che vanno a fare chiarezza su quello che è successo. Andiamo a leggere le ultime news su Binance. Sono state malinterpretate da molti appassionati del mondo cripto per via di un post su Twitter dell'account support dell'exchange. Nel messaggio pubblicato su social network e successivamente cancellato si legge che le transazioni, depositi e prelievi via Bonifico SEPA sono state sospese. Quindi diciamo che... Ni. Diciamo che alcune informazioni è ni. Sì, sono vere e possono essere anche non vere, quindi possono risultare anche non veritiere. Questo è quanto, ragazzi, riguardo la storia di tutti i problemini che sta avendo Binance. Detto ciò è tutto, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se avete informazioni aggiuntive. Mi raccomando, lasciate un bel like e seguitemi sul canale. Detto ciò vi saluto, ci vediamo al prossimo video.